Anche con una produzione un'ernia di scale? Sì, 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 è una cosa molto frequente. Anche per quanto riguarda le attività che si possono svolgere, è chiaro che noi dobbiamo insegnare a ciascuno, in base al suo problema, come fare determinati esercizi, oppure come svolgere la propria attività lavorativa, quando si tratta di uno sport, come praticare la propria attività sportiva, rieducando eventualmente il gesto sportivo e cercando di far sì che questo gesto sportivo non dia problemi dovuti a delle lesioni, dei conflitti disco-radicolari, cioè del disco intervertebrale nei confronti del tessuto nervoso oppure della componente muscoloscheletrica. E per esempio ci sono degli sport che sono indicati, perché possono addirittura migliorare le condizioni del paziente a livello sintomatologico dopo un accertamento di un'ernia di scale? Sì, lo sport normalmente in linea generale indicato è uno sport che non ha aspetti traumatici, è uno sport, per esempio anche l'atletica leggera può essere indicata come uno sport favorevole per chi soffre di lombalgia. Una volta si diceva tutto indistintamente che andava bene l'attività natatoria, cioè il nuoto, oggi invece la moderna biomeccanica ha dimostrato in modo chiarissimo che l'indicazione deve essere specifica per ciascuna persona in rapporto allo studio delle curve che si possono vedere su racchide. Quindi, non so, faccio un esempio specifico. Siccome il nuoto tende a dare normalmente una ipercifosi dorsale, una iperlordosi in sede lombosacrale, allora se un soggetto ha già una problematica di questo tipo, chiaramente non può essere considerato uno sport più una scelta per il trattamento. Poi il soggetto può anche fare nuoto se ha passione, però non deve essere fatto in modo, diciamo, specifico per quanto riguarda la scelta terapeutica. In questo caso conviene fare altri tipi di attività sportiva. Perciò diciamo che, invece, per quanto riguarda il nuoto, lei diceva, vabbè, adesso poi tra un po' daremo la linea al GR, poi chiaramente lo approfondiremo magari. Ci sono degli stili sicuramente da poter fare, e invece, per esempio, so che sono controindicati completamente i tuffi, per esempio. Certo, non sono stati i tuffi. Perché i tuffi sono controindicati? Beh, perché tutto ciò che chiaramente può dare potenzialmente un trauma al rachide è chiaro che viene controindicato. Si pensi, per esempio, anche all'attività cosiddetta di rana, che è dato uno stile di salvamento, non è uno stile vero e proprio, che viene propriamente utilizzata, diciamo, come stile all'interno delle piscine, invece da dei colpi di frusta, come una specie di colpi di frusta, del sede lombosacrale, e viene controindicata come attività, così come anche il delfino, per esempio, è un altro tipo di stile che viene utilizzato meno frequentemente, ma anche questo sollecita in modo eccessivo i rachidi dell'ombosacrale, che non interessa invece preservare. Perché mi faceva venire in mente che ultimamente abbiamo avuto ospite qui a Radio Roma, appunto, Klaus Di Biasi, no? Il famoso Klaus Di Biasi, un tuffatore che ha dato tantissime gioie, appunto, agli sportivi italiani, e agli appassionati, insomma, di tuffi. Klaus è una persona che è completamente sana da un punto di vista... Certamente, questo non può dire. Non ha mai avuto problemi di colonna. Certo, certo. Allora, noi abbiamo detto prima, già in introduzione, cioè il soggetto che è sano può fare qualsiasi tipo di attività sportiva, e questo abbiamo già detto, nel caso in cui vi sono dei problemi specifici dei rachidi dell'ombosacrale, in questo caso conviene porre attenzione, anche dal punto di vista riabilitativo, cioè dell'educazione funzionale, porre attenzione sul tipo di attività sportiva. In questo caso, appunto, bisogna porre proprio una lente di ingrandimento e poter scegliere è molto importante, saper scegliere è molto importante. E invece lo stile libero e il dorso? Sono in genere, si possono concedere facilmente, però, ripeto, questo appatto in cui non ci sia già in un soggetto una ipercifosi dorsale, del rachidi dorsale, chiaramente è una iperdordosi lombosacrale. Se noi vediamo di profilo i grandi mutatori, frontalmente sappiamo già l'aspetto. Se siamo di profilo, notiamo che spessissimo hanno un atteggiamento della schiena, la parte alta della schiena, del rachidi dorsale, curvo, mentre hanno una curvatura eccessiva nella parte più bassa della schiena, appunto del rachidi lombosacrale. Questo indica appunto che l'attività natatoria, attività del nuoto, tende proprio a dare lo sviluppo di alcuni gruppi muscolari che sviluppano queste deformità. Che non è detto che diano dolore, però sapendo già che esiste un atteggiamento posturale caratteristico, allora conviene ripiegare su altri tipi di sport, che sono altrettanto belli, interessanti, dove questo non avviene. Diciamo che legata proprio all'acqua, al nuoto, c'è la pallannuoto per esempio, la pallannuoto può essere indicata per esempio? Beh, diciamo che c'è un certo agonismo nella pallannuoto, per cui bisogna tenere presente che comporta un certo sforzo di tutti i gruppi muscolari, compresi quelli di rachidi lombosacrale, per cui bisogna stare attenti, se una persona già praticata una persona di attività sportiva e ci tiene molto a farlo, deve essere eseguita dal punto di vista fisiatrico con particolare cura. Comunque non è contraddicato in assoluto, questo è chiaro. Perfetto, invece c'è la cosiddetta ginnastica in acqua, appunto il gym nuoto. Il gym nuoto è un tipo di attività che viene praticata per quale motivo? Innanzitutto perché l'acqua offre una resistenza costante del movimento, per cui in un certo senso è praticamente quasi impossibile compiere dei movimenti che sono particolarmente bruschi in acqua. Il movimento dolce è sempre un movimento che è controllato, perché noi diciamo che alcune attività sportive non sono adatte? Perché laddove c'è un movimento brusco e improvviso, ci possono essere dei contraccolpi dal punto di vista biomeccanico anche su strutture che sono particolarmente deboli, come se andassero a scaricare diciamo un'energia in alcuni anelli deboli della nostra catena. Mentre quando il movimento è controllato, in questo modo è più difficile appunto creare lesioni a quelli di sette corporee e in particolar modo anche a livello lombosacrale. Ricordo a questo proposito che il raggio dell'ombosacrale è sottoposto a delle sollecitazioni meccaniche che sono enormi. Studi autorevoli dimostrano che sono centinaia di chili che possono gravare con una semplice flessione del tronco in avanti sul disco intervertebral a livello L5-S1 c'è gli ultimi dischi intervertebrali che sopportano un maggior carico con delle forze che si chiamano appunto meccanicamente forze di taglio. Quindi attenzione ai movimenti. In questo senso la ginnastica che veniva proposta prima in acqua può essere adatta proprio perché il movimento è sempre un movimento controllato, un movimento che potremmo definire dolce. Nel suo tempo invece si ha un buon rinforzo muscolare può migliorare anche l'astricità dei gruppi muscolari stessi. Perfetto. Poi tra l'altro noi tra poco ci collegheremo con Eleonora Vallone che è uno dei maggiori rappresentanti appunto del Gimnuoto in Italia. Però prima di fare di attivare questo collegamento appunto noi diamo la linea a Max sempre al di là del vetro sempre attento e in defesso soprattutto per collegarci appunto con il GR e poi immediatamente dopo parleremo appunto del Gimnuoto con l'ausilio anche dell'intervento autorevole appunto di Eleonora Vallone da un'esperienza proprio diretta. Radio Roma Radio Roma Radio Roma Radio Roma al centro della musica Eccoci nuovamente in studio e naturalmente dopo l'intervento di Eleonora Vallone appunto ritorniamo ancora a parlare abbiamo chiuso questa parentesi appunto lunga parentesi degli sport aquatici insomma abbiamo deciso che almeno il dottor Finucci abbiamo appurato appunto che il Gimnuoto può essere sicuramente può aiutare moltissimo in queste situazioni però sempre a patto che venga praticato in maniera intelligente e soprattutto accurata insomma seguita soprattutto da un esperto e perciò diciamo invece c'è un'altra cosa parlando di sport che poi questo è sport diciamo ma anche spettacolo che poi tutto lo sport alla fine può diventare spettacolo se è fatto praticato in maniera agonistica però sicuramente implica dei movimenti del corpo che possono essere poi su questo ho sempre sentito opinioni contrastanti dottor Finucci praticamente parliamo della danza del ventre che è una danza orientale che è stata così importata ormai in Italia nascono tantissimi appassionati ogni giorno poi nascono sorgono tantissime sul territorio tantissime manifestazioni tantissime manifestazioni appunto inerenti appunto a questa danza orientale che sicuramente trae le sue origini poi dall'antico Egitto insomma addirittura per quanto riguarda la danza del ventre per una persona che soffre di schiena oppure anche per chi non soffre di schiena effettivamente parliamo da chi non soffre può essere può creare dei problemi e per chi invece già soffre può essere un come dire quasi un modo per alleviare i problemi oppure sicuramente va a peggiorare la situazione insomma allora intanto voglio dire che non esiste letteratura scientifica mondiale diciamo non esiste un'evidenza scientifica sull'aumento dei casi di lombalgia dovuta appunto alla danza del ventre questo innanzitutto va detto si tratta di chiaramente un tipo di attività sportiva praticata per quanto sia insomma in diciamo un numero abbastanza contenuto comunque diciamo che un soggetto normale cioè che non ha nessun tipo di problema non sembrerebbe se appunto viene insegnata bene questo tipo di attività non sembrerebbe essere esposto a particolari rischi rispetto ad altre attività sportive diverso invece il discorso per coloro che hanno già una lesione discale noi sappiamo che il disco intervertebrale in genere quando c'è una lesione tende a muoversi per cui questo tipo di attività sportiva che ginica diciamo che tende a sviluppare dei movimenti particolarmente rapidi e intensi a carico del rachido lombosacrale potrebbe in alcuni casi diciamo far soffire un pochino il disco intervertebrale ulteriormente e dar luogo a dei conflitti cosiddetti disco radicolari con conseguente dolore questa è una condizione che va valutata di ogni singolo caso perciò diciamo che una persona che magari abbiamo detto che inizialmente per una persona normale è chiaramente normopatologica normopatica si dice che inizialmente Grazie.